E' un lungo e puntuale bollettino, oramai quotidianamente si fa il punto sui furti, i tentativi o le spaccate in centro. Nel mirino dei soliti ignoti, ultimamente i locali più chic del cuore di Padova. Padova deve dire basta. Dopo i colpi nella sciccosa via Sanfermo e nella nobile Galleria Borromeo, questa volta a meta della scorribanda notturna è stato il famoso caffè Pedrocchi, simbolo della Padova da bere. Due le vetrine in frantumi. Il ladro in solitaria, come già presumono gli investigatori, ha scassinato la porta d'ingresso e si è diretto alla cassa, dalla quale ha asportato una cassettina più piccola, che però era, purtroppo per lui, completamente vuota. Ad accorgersi del tentato furto al Pedrocchino è stato l'addetto alle pulizie, arrivato al locale verso le 7 del mattino. La polizia scientifica ha fatto il sopralluogo nel locale e gli agenti passeranno al setaccio le telecamere dei negozi vicini, visto che il caffè non ne ha di proprie. Potranno essere utili, invece, le immagini immortalate dal circuito presente all'interno del caffè Pasticceria Baessato. Siamo in un altro dei salotti buoni della città, tra le lussuose boutique di via Sanfermo. Qui i ladri hanno arraffato il fondo cassa e il denaro dei portafogli adottati dal personale e alla fine hanno brindato con dell'ottimo champagne parte del bottino della scorribanda. La banda ha agito indisturbata tra domenica e lunedì, tra le 4 e le 6 del mattino. Ha prima tentato l'ingresso dalla Galleria Europa, poi, con un piede di porco, è riuscita a scassinare la porta d'ingresso. Quando succede una spaccata di questo tipo, mette in ginocchio un'attività commerciale. Il presidente dei commercianti chiede controlli e certezza della pena. Inaccettabile la situazione. Io chiederò alle istituzioni di convocare un tavolo al ritorno dalle vacanze, un tavolo subito di confronto. Intanto il questore ha predisposto un rafforzamento dell'attività con un aumento delle pattuglie notturne in città.